L'uomo che state vedendo seduto in questo set virtuale ci racconterà adesso la storia del libro chiamato il codice di archimede in questo momento la sua immagine viene elaborata con una macchina a cui voi avete dato il nome di computer e chi usa il calcolo combinatorio quel calcolo combinatorio che ho sviluppato proprio io archimede